Ancora una volta Franco Grigiotti, con questa sua ultima opera, ha voluto darci un'illuminante testimonianza della potenza dell'amore e della straordinaria portanza della fede. Pietra miliare nella ricerca ITC, Instrumental Transcommunication, effettuata per lunghissimi anni nella maggior parte presso il centro psicofonico di Grosseto, ideato e diretto da Marcello Bacci, Franco Grigiotti, con la sua accattivante umanità, con la sua squisita sensibilità e con la sua mai sorprendente umiltà, con il suo stupefacente amore, ha racchiuso nella sua trilogia la sua esperienza che è preciso essere di circa 13 anni negli oltre 40 anni di esperimenti effettuati da Marcello Bacci presso il sopraddetto centro psicofonico di Grosseto. La storia di Mirella e Franco ha affascinato quanti hanno avuto il dono di imbattersi in Franco Grigiotti lungo il loro percorso e di tutti quei ricercatori e nonno che hanno avuto la fortuna di partecipare agli esperimenti di Grosseto. E chi vi scrive è stato, dopo lunghi anni di frequentazione di quel centro, buon testimone della gran parte dei messaggi avuti da Franco alla radio di Bacci. Stralcio dal testo di Salvatore Festa, professore di fisica nucleare presso l'Università di Napoli, fisico sanitario ed ex docente di radioprotezione presso la Seconda Università di Napoli, ricercatore di parapsicologia. Alessander prima parla alla radio, finita la trasmissione si incorpora nel medium che è presente quella sera. Ascoltate. Si vede che di lassù qualcuno vede. Mi sentì troppo poco si ricorda, ma dal punto che molti lo ignorano, ho fatto attraverso la catena, si sono trovati uniti. Quello è l'universo, l'universo, l'universo della gratuità di cui si è mostrato fratello, Marcello. Marcello ha sentito, crede di giurisarmi e non ci sanno, non vuole esaminare lui. Perché non si fa un giocatore? Ma ci si ricorda, mi sentito, non ci sanno, non ci sanno, noi ci sanno. Siamo arrivati all'universo, la trecchiamo. Si può essere, signore, spartare, scrisate... Alessandra, sentiamo, dove dobbiamo fare la seduta? Voglio io la trans, ha detto. Ha detto, puoi vivere la sua trans. Eh sì, ti sveglio magari. E' più un giorno non vissuto, un giorno dure e flessere e un'altra, di vivivisa. Certamente di essere al di fuori del tuo quarto. Questa è molto bella cosa. C'è una cosa un po' curiosa, un po' di confusione. Possiamo forse dire il nome che è il tuo padre. Questo ha mi rimasto esistente. Alessandra, ti prego, dopo dobbiamo farlo? Ti è gradito usare questo canale, il canale dopo l'incorporazione? Dopo la morte, qui è una... Tutto questo farà una differenza che non sa come noi amiamo questo mondo. e siamo chiamati ad amare il tuo corpo più intensamente. Dove bugie e falsità sono terminati, crescono la diffidenza e la divisione. Occe, aiuta la persona a vivere. E vedo che lui ha una funzione, cerca a reintegrare le persone e i gruppi. Una nuova energia, sono le insipatie da lui, ma è venuto più diversi. Il suo problema. Lui, un riferimento esplicito e costante, non ha voluto parlare di Dio. Questo non vuol dire che nega l'esistenza di Dio. Il desiderio è all'origine dell'attaccamento. E l'attaccamento determinerà la sofferenza. Però come uscire di questo? E lo spirito, nel quotidiano contatto, suggerisce? Tutto questo non farà una differenza al nostro mondo? Non è chiaro che viene da noi. Jesus Christ ha taught us a way in to suffering. Potremmo capire che il figlio assieme a il suo palco. Segue adesso la voce di Alessander per incorporazione nel medium che, come ho già scritto, sconsiglio di ascoltare a persone particolarmente sensibili ed impressionabili. Ascoltate. Il rumore che avete udito è l'apporto, quella pietra dura che mi è caduta sulla scarpa del piede destro. Mi è fatto obbligo di manifestarmi perché non potevamo disattenere le vostre aspettative. E dopo avervi dato dei messaggi profondi e significativi attraverso la radio, non potevo non cogliere questa occasione. È stato un po' difficoltoso in quanto da lunga pausa ha creato dei problemi per la incorporazione e anche perché ci sono presenze non molto positive, ma riusciamo a dominare di tutto. Un abbraccio a tutti voi. Mi avete ascoltato e insieme a me avete ascoltato tutta l'entità attraverso la radio. Fate tesoro le messaglie che vengono dalla dimensione dell'amore. Non lasciate che scivolino addosso come acqua su di voi. Sentiamo tanta pochezza umana. Percepiamo vibrazioni di ipocrisia, di meschinità. Ma siamo consapevoli che la vostra condizione umana vi induce a tutto questo. Noi procediamo nel cammino che abbiamo segnato. E con voi speriamo di raggiungere delle mete molto importanti. E' importante che voi sappiate quanto vi amiamo, sappiate quanto dalla nostra dimensione di amore per voi.